Il mercato degli Emirati Arabi Uniti e le imprese italiane è stato il titolo del convegno ospitato a Palazzo Lascaris e rivolto agli imprenditori piemontesi che vogliano internazionalizzare il loro prodotto o servizio. L'incontro al quale ha partecipato la vicepresidente del Consiglio regionale Daniela Ruffino è stato organizzato dall'associazione Nova Pangea insieme con la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti con il patrocinio della Regione Piemonte in occasione del Turing Islamic Economic Forum che si è svolto nel capoluogo piemontese il 6 e 7 marzo.